Sappiamo che si sta per organizzare un gran premio di auto elettriche a Teramo, visto le tante colonnine che ci sono per le ricariche. Ne abbiamo una tale abbondanza che probabilmente faremo fatica, anzi avremo più colonnine che automobili che partecipano. Scherzi a parte, le colonnine chi le ha viste? Aspettiamo. Avvocato, lei di Teramo notoriamente, vogliamo ricordare che ruolo ha nel mondo per quanto riguarda le auto elettriche? Diciamo che mi occupo in modo abbastanza intenso di tutto quello che riguarda il motosport, declinato nel mondo delle energie alternative. Ovviamente non sono solo elettriche, ma in questo momento dovrebbero essere prevalentemente elettriche. Che ruolo ricopre? Ho la presidenza della Commissione Italiana di Energie Alternative dell'Automobile Club d'Italia e la vicepresidenza della Commissione Mondiale che fa capo alla FIA, la Federazione di Riferimento. Una persona che ricopre i suoi ruoli in questo momento è di Teramo. Come vive a Teramo dove l'elettrico non esiste? La vivo come un'anomalia, o meglio, sono un anomalo tra i miei colleghi, sono un po' una barzelletta in realtà perché ovviamente vivo in una città che obiettivamente sconta un ritardo importante che sta diventando anche un po' imbarazzante perché non ha ragione d'essere e per questa ragione, insomma, obiettivamente faccio un po' fatica a raccontare i fatti della mia terra non appena esco fuori dal perivolo della mia terra. Si mette ovviamente a disposizione del Comune di Teramo per una consulenza gratuita per cercare di reperire quelli che sono i fondi per le colonie elettriche? Ma io non credo che il Comune di Teramo abbia bisogno della mia consulenza. Credo tra l'altro che sia stato messo a concorso anche un posto da city manager che si dovrebbe occupare anche di queste cose. Oggi è pieno di compagnia che offrono questi servizi e che sicuramente hanno bussato la porta del Comune per offrire queste opportunità. Bisogna coglierle. Grazie a tutti.